Siamo con il senatore Enrico Buemi del Partito Socialista, veste di commissario antimafia oggi a Catanzaro, riunione con i prefetti ma non solo. Senatore Buemi, la riunione su che cosa verte oggi? I problemi sono evidenti che sono quelli riguardanti alle organizzazioni criminali, in particolare l'Anrangheta che opera in Canabria, ma noi siamo qui anche per cercare di approfondire le relazioni che emergono nelle inchieste che si stanno effettuando al nord, in particolare nella zona emiliana, dove emerge con particolare vilurenza la presenza di una cosca mafiosa collegata a Cutro. E quindi da questo punto di vista la Commissione antimafia vuole capire meglio quali sono le relazioni e ovviamente accendere un faro anche sulle altre zone della Calabria che in questi anni sono state toccate da vicende gravissime come la zona di Corigliano, di Cassano Ionico e anche le questioni riguardanti gli enti locali in tutte e quattro le province, Cosenza, Catanzaro, Vibo e Crotone, perché si registra una difficoltà delle amministrazioni locali a rapportarsi in maniera corretta rispetto ai problemi della legalità. Ci sono comuni commissariati, altri comuni che hanno le commissioni di accesso e quindi potrebbero essere commissariati. C'è una difficoltà complessiva dell'ordine pubblico nella regione che preoccupa la Commissione antimafia come preoccupa il governo e quindi da questo punto di vista la nostra presenza qui è quella di richiamare l'attenzione di tutti quanti coloro che operano nel settore, dalla magistratura antimafia alle prefetture, alle forze dell'ordine affinché in questo territorio cresca la collaborazione tra i cittadini e le forze preposte, cresca la sensibilità delle amministrazioni locali rispetto a un fenomeno che molto spesso viene sottovalutato. Anche se l'On. Bindi, come Presidente della Commissione antimafia, recentemente in un comunicato stampa ha detto che va rivista la normativa sugli scioglimenti dei comuni e sull'interdittiva antimafia per le aziende. Non c'è dubbio, il problema del scioglimento degli enti locali è un problema serio perché spesso vengono sciolti i consigli comunali ma le strutture inquinate dalla presenza mafiosa cioè gli apparati burocratici rimangono intonsi e quindi da questo punto di vista probabilmente è meglio calibrare la procedura di scioglimento rispetto a cambiamenti che possono essere effettuati anche in assenza del scioglimento stesso ma ci vuole la collaborazione delle amministrazioni locali e non sempre queste sono disponibili a fare quello che è dovuto ma che può rappresentare anche una preoccupazione dal punto di vista delle reazioni che le cosche possono portare avanti nei loro confronti. Senatore, domani il Parlamento è in discussione e in votazione, una legge molto importante, lei è stato il promotore di questa legge, relatore al Senato sulla responsabilità civile dei magistrati, domani è una giornata storica. Io spero che si concluda un iter molto lungo, attendevamo una legge che riorganizzasse la responsabilità del magistrato che commette delle legalità in modo tale che tutti i cittadini tornassero devono essere uguali davanti alla legge. Questo come esempio di uno Stato che pretende dai cittadini rispetto delle norme ma nello stesso tempo agisce nei confronti dei propri servitori quando questi sbagliano. Non ci possono essere aree di protezione, ognuno deve fare il proprio dovere, i cittadini devono rispettare la legge ma devono essere anche garantiti che quando non commettono comportamenti illegali non possono essere chiamati a rispondere, come spesso accade, per una sottovalutazione, per errori, per distrazioni e anche per cattivi comportamenti di certa magistratura. Questa è una vecchia battaglia anche socialista perché nell'87 ci fu un referendum insieme ai radicali e all'epoca il movimento politico, il Partito Liberale di Alfredo Biondi. Cosa cambia rispetto al referendum approvato nell'87 con questa nuova legge che domani il Parlamento discuterà e voterà? La legge in vigore oggi ha un elemento di grande handicap, cioè il filtro che viene esercitato nei confronti delle azioni che vengono portate avanti da parte dei cittadini che si ritengono lesi nei loro diritti. Questo filtro negli anni non ha consentito che l'azione di responsabilità civile si potesse esercitare efficacemente nei confronti dei magistrati che commettono colpa grave. Ovviamente la colpa grave è un comportamento particolarmente serio, non rispetto delle norme e delle procedure. Quindi questa rimozione del filtro sicuramente farà in modo che si arrivi al processo che ovviamente prima di tutto è un processo nei confronti dello Stato perché il magistrato è un servitore, un dipendente dello Stato e quindi in prima battuta viene chiamato in causa lo Stato stesso. Soltanto dopo l'accertamento della responsabilità dello Stato, ovvero del magistrato che commette l'illegalità, successivamente lo Stato ha il dovere di agire come azione di rivalsa nei confronti del magistrato che ha commesso il comportamento di colpa grave. Come noi sappiamo il dolo è già perseguito normalmente. Qui diciamo si tende a sanzionare quel comportamento che è tra l'infrazione disciplinare e il dolo e quindi il comportamento di colpa grave che sicuramente non è una responsabilità penale ma è una gravissima inadampienza dal punto di vista dei comportamenti. Lei oltre ad occuparsi di giustizia è anche un uomo politico, perciò è il termometro della situazione. Domani cosa succederà in Aula? Io credo che la legge verrà approvata perché è una legge giusta, è una legge che rimedia una situazione di inefficacia della norma precedente. È una norma equilibrata nel senso che non consente che il cittadino che viene sottoposto a procedimento possa agire direttamente nei confronti del magistrato, agisce nei confronti dello Stato. Lo Stato risponde in prima battuta e quindi la tesi di alcuni magistrati o di certa magistratura che ritiene di essere condizionata nella propria azione di indagine sanzionatoria per il fatto che si varia una legge che consente che essi siano chiamati in causa mi sembra un po' una sorta di coda di paglia perché i buoni comportamenti non saranno chiamati in causa perché c'è lo Stato che si frappone tra il cittadino e il magistrato. Ovviamente se non è un'azione che il cittadino attiva nei confronti dello Stato rispetto il non buon comportamento di un magistrato, ripeto colpa grave, non si tratta di cose leggere e ci sarà un giudice ovvero un altro magistrato che giudicherà questa situazione e se nel giudizio finale la responsabilità sarà accertata allora ci sarà l'obbligo dello Stato che indenizzerà il cittadino che avrà avuto un danno ma nel suo tempo sarà obbligato ad avvalersi nei confronti di un magistrato che ha commesso quel comportamento che viene sanzionato. Per la verità la sanzione non sarà particolarmente grave perché il massimo sarà la metà dello stipendio annuo quindi anche di fronte a danni particolarmente rilevanti arrecati dal comportamento o sanzionato l'indennizzo, l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato sarà comunque